eccoci 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 qui ben ritrovati come state un saluto a tutti una buona serata da milanello alla casa dei milanisti su youtube se non siete ancora dei nostri unitevi è gratuito basta cliccare qui sulla bandierina attivare la campanella iscrivetevi gratuitamente al nostro canale youtube mi raccomando qui sotto commentate numerosi sempre con civiltà e con rispetto due regole base e poi c'è anche il link del mio canale personale dopo sicuramente torneremo per delle breaking news a questo punto definitive potete andare tornare iscrivetevi in 10 secondi avete fatto tutto e poi vi ricordo che mercato archiviato qui sotto c'è il link del podcast di manbastain che vi aspetta aspetta soltanto di essere visto e credo spero apprezzato allora siamo alle battute finali di questo calciomercato con pochissime ore ormai qualche ora dalla chiusura del calciomercato sarà a mezzanotte spieghiamo subito una cosa una premessa importante mezzanotte in italia poi resta aperto il mercato degli svincolati che tu puoi prendere volendo in qualsiasi momento poi resta aperto il mercato della saudi pro league quindi il campionato arabo che ha davvero i soldi che spende tanto fino al 2 di settembre quindi lunedì resta aperto il campionato turco che è un altro campionato che ha soldi quindi potenzialmente può portare a delle uscite verso quel mercato in cui c'è ad esempio sappiamo crunic icardi e altri e poi altri campionati con lo greco eccetera che però non sono diciamo così papabili per i nostri in questo momento la situazione qual è una situazione che va verso un countdown che è sempre più rumoroso nella testa e nelle possibilità di questo calciomercato andiamo con ordine nel dire che orighi in questo momento rimane sul groppone e sono 8 milioni di euro che rischiamo di buttare diciamo anche che ballo tourè in questo momento resta sul groppone ultima volta perché l'ultimo anno di contratto speriamo che qualcosa possa accadere mal che vada in turchia per il resto ovviamente il tema forte è quello delle uscite delle entrate jovic e benasser come sapete non sono stati convocati l'ho detto sul mio canale personale jovic si era detto inizialmente per un problema al collo che poi è diventato problema alla schiena tradotto jovic è stato escluso dalla partita di domani contro la lazio perché c'era la possibilità di una partenza c'è in questo momento mi sembra improbabile anche se c'è un se del quale adesso parliamo perché jovic se resta deve sapere che probabilmente quasi sicuramente starà fuori dalla lista champions league gestione paradossale però in questo momento è così con fare i ramadani che a milano però non ci sono i radar per una partenza con jovic che sta bene al milan apro e chiudo parentesi ma perché l'abbiamo rinnovato se le intenzioni erano queste rinnovato un giocatore è scelto di tenerlo poi lo vuoi far partire poi rischia di rimanerti anche lui lì fuori dalla lista champions quindi c'è il discorso jovic benasser escluso dalla lista dei convocati per una gastroenterite ovviamente discorso mercato che è un po più caldo rispetto a quello di jovic perché il milano dice fuori perché magari partono perché se poi non partono devi spiegare che no è il giocatore da rigenerare eccetera eccetera invece così facendo no non era fuori per mercato ma era fuori per gastroenterite e per lombalgia ci chiede nessuno però questo è quello che viene fatto passare per benasser il milan sta provando ancora a farlo uscire l'atletico madrid non è andato oltre a una richiesta di informazioni ma non ha poi approfondito con lo stesso simeone che ha detto a meno di sorprese il mercato l'atletico madrid è finito poi si è fatto avanti il marsiglia marsiglia che in questo momento mi sembra l'unico club davvero interessato a benasser poi questo video magari tra un'ora o tra due ore è invecchiato si prova il marsiglia ha presentato un'offerta di prestito però non oneroso minan vorrebbe invece anche incassare qualcosa è chiaro che se parte benasser entra qualcuno su benasser ho la sensazione che ormai siamo arrivati troppo lunghi quindi personalmente sono pessimista sull'uscita di benasser anche se l'ultima risposta è stata vediamo io credo che lo fai adesso non lo fai più io un mese fa ho detto però ragazzi benasser lo confermerei poi però abbiamo visto un benasser che si chiama fuori dalla lotta vedete la foto dell'ultimo allenamento sembra che abbia quasi anche un po la pancetta sarà magari quella posa quella forma quella foto lì però non l'ho visto bene un giocatore che voleva andare via perché riteneva il suo ciclo al minan chiuso perché aveva usato i soldi dell'arabia gestito malissimo nel suo entourage perché quei soldi non sono mai arrivati annunciato offerta che non è mai arrivata enzoraio la non ne esce bene il milan però senza la certezza dell'uscita siccome poteva farlo sentire un po più importante invece ha fatto capire che era anche intenzione di milan farlo partire per liberarsi di un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione lordi se non esce benasser per me è un problema perché hai cinque giocatori di cui uno demotivato si vedeva c'altrove e non è scontato che riesci a risintonizzarlo sulle frequenze rossonere anche perché l'obiettivo del milan era fare benasser out o magari ancora e rabbio in oggi più contatti questa mattina questo pomeriggio con mamma vero nick di adriel rabbio qualcuno scrive chiediti perché è ancora libero come dire che è un brocco non è un brocco adriel rabbio adriel rabbio è un campione ma avanzato richieste ritenute troppo alti alte attenzione è un mercato in cui tutti i parametri zero hanno trovato difficoltà vedi hummels vedi ermoso vedi depai hanno scommesso su un mercato che però nel frattempo è cambiato ma non si può dire perché diti perché è ancora lì ma non perché è un brocco perché è avanzato dei costi non ritenuti congrui ma non si può discutere il giocatore rabbio impazzisco se si discute il giocatore rabbio è un giocatore per me straordinario i costi sono importanti senza l'uscita di benasser non si fa quindi in questo momento la sensazione ma il mercato può cambiare ancora è che rimarremo così con qualche giocatore giocatore sul groppone e con un centrocampo che vede l'uscita di adelipo bega l'ingresso di fofanà che però non basta quindi è un calciomercato che può essere visto secondo me ancora un po come un po monco però finisce sta per finire a mezzanotte finisce poi faremo domani mattino ovviamente un aggiornamento su rabbio è vero che poi lui è ancora lì vedremo che offerta in mano da qualche parte dovrà pure andare però la sensazione che benasser non l'abbiamo gestito bene così come sicuramente questa non è una sensazione una certezza la vicenda jovic non l'abbiamo gestita bene siamo arrivati lunghi su benasser e hai provato a cederlo se lo confermi non sei riuscito in questa cosa qui hai fatto qualche calcolo sbagliato magari fidandoti del suo enturaggio di certi intermediari che avevano promesso un'offerta araba che non è mai arrivata quindi sono contento per ebram che è un punto di domanda ma si diventa un punto esclamativo per me molto forte nel frattempo è ufficiale anche silvano vos sta per diventare ufficiale ovviamente anche ebram ma c'è anche un danno evidente perché noi andiamo a roma siamo andati a roma con ocaforca marda c'è la deroga per portare anche ebram che però non si è allenato né oggi né ieri andiamo a roma senza benasser con quattro centrocampisti più zeroli con una squadra che in una gara delicatissima non sarà esattamente al completo e poi capita di non riuscire a fare tutto quello che vuoi fare però dipende anche come siccome questa gestione qui di benasser e di jovic è stata sbagliata clamorosamente quella di jovic anche però quella di benasser se poi adesso parte al marsiglia ovvio che tu devi sostituire e se non è rabbio chi è c'è poi questo intreccio il ren di il ren di gazidis e di massara vuole vere tu che se esce dalla marsiglia può liberare lo spazio si sta trattando ancora ma mi sembra che ormai i tempi siano troppo ridotti serve un po un miracolo e se va via benasser deve arrivare qualcuno chi è rabbio o non è più rabbio da mia intrapella che i costi sono importanti quindi temo che resteremo così con tutte le controindicazioni del caso le perplessità e poi però un bilancio che verrà fatto domani bisogna vincere vedremo come e vediamo come si conclude questo mercato l'aggiornamento ultimo ve lo darò sul mio canale personale quale vi invito a iscrivervi qui sotto commentate lasciate un like iscrivetevi qui attivate la campanella e poi c'è anche la partita c'è soprattutto la partita che è la cosa più importante un fonseca oggi un po nervoso un po secondo me inadeguato in certe risposte e un po in difficoltà linguistica attenzione tu parli ai giornalisti magari difficoltà comprendere a farti capire ma parli soprattutto ai giocatori e questa cosa qui delle difficoltà di comunicazione della lingua mi era già arrivata dallo spogliatoio oggi in conferenza devo dire che ho toccato con mano questa perplessità di tanti però vediamo un po che cosa succede commentate lasciate un like iscrivetevi qui attivate la campanella e speriamo nel miracolo finale ma sono pessimista un abbraccio